Sono dei segnali di uno scontento e di problematiche che comunque questa Europa ha e dà, soprattutto a quelle classi più povere, perché c'è un serio problema che è un problema lavorativo dell'Europa e soprattutto degli stati che addirittura sono dentro l'Euro. La domanda è, secondo lei adesso questo è, come diceva appunto Renzi, il momento buono per, potrebbe farcela per ottenere una serie? Sì, però quello che sta andando su sembra insomma, da quello che vediamo, quello che chiede è flessibilità, ancora flessibilità, che è deficit futuro perché è un investimento veramente a rischio, sembra più una mossa sua, chiedo qualcosa per la manovra, per le manovre magari da fare poco prima del referendum, così vediamo di fare qualche altra promessa agli elettori sotto elezioni, ma sul lavoro, bisogna che questa Europa si ridisegni sulle necessità delle persone, prima di tutto deve essere quella del lavoro.